La vita dei Dressel2Kiss in un libro, chi se ne frega, la storia di una tribute band Andrea Saulini dei Dressel2Kiss presenta, chi se ne frega, la storia di una tribute band La nascita e il successo dei Dressel2Kiss, una fra le più celebri cover band dei Kiss, raccontata da uno dei suoi quattro membri sotto la forma di un diario Ontario Ad. Più di dieci anni di concerti in giro per l'Italia e l'Europa, un tour insieme allo storico batterista dei Kiss Peter Criss e svariate avventure di ogni genere coinvolgeranno questi quattro ragazzi, animati soltanto dalla svisurata passione per il rock, in un viaggio che segnerà le loro viti per sempre. Il libro contiene la prima sceneggiatura mai scritta da una tribute band, un giorno tanto atteso.